Ma io sposo in pieno quello che ha detto la Juventus, quindi ci sono alcuni argomenti che sono già stati affrontati e che è inutile che io riproponga. Egregio i senatori, mi dispiace dover far notare che i politici in generale credono che il governo non debba interessarsi in termini economici del settore del calcio. O meglio, che non possa il governo stesso creare le condizioni per le quali si possano eliminare i miliardi di debiti che il calcio accumula ogni anno. Noi non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energia economica e finanziaria. Nel lontano 1996 il governo trasformò i club in società di capitali, quindi società per azioni e società di capitali con finalità lucrative, concetti tra l'altro ribaditi e riconfermati anche dalla UEFA. Però, che cosa è successo in parallelo? Che non si preoccupò assolutamente e minimamente di creare i presupposti per una sana economia di mercato. Non ci siamo liberati, se non ultimamente, ma in maniera completamente inadeguata, della 91-81, 43 anni fa immaginata. E ancora esiste. Poi, la melandri, la malattia e un coacervo di danni inimmaginabili allo sviluppo del calcio italiano, in riferimento al resto del calcio europeo. Allora, noi abbiamo, tra l'altro, permesso un caos totale nel passare dal 1986 per la Serie A, da 16 squadre a 18 prima e a 20 poi. Ma le partite passarono e passeranno fino al nuovo campionato da 45 a 75 barra 80. E quindi i giocatori verranno usurati, perché per chi dovesse arrivare fino alla fine di tutte le partite da affrontare, ci sarà una usura tale per cui quel campione ipotetico l'anno successivo probabilmente dovrà stare in pensione e non poter partecipare con la stessa fisicità, preparazione e mente preparata al successivo campionato. E poi, di conseguenza, le entrate non saranno commisurate a questa quantità di energia sprecata, dove soltanto le istituzioni calcistiche porteranno a casa un risultato economico sulle nostre spalle e sui nostri investimenti. Cosa fare dunque? Ma la Liga di Serie A non avrà mai la forza di ridurre il numero delle squadre. Lo deve fare il governo. Cioè il governo deve prendere atto che dai prossimi campionati le squadre devono essere X e non Y, perché non ci sono i fatturati possibili per giustificarne l'esistenza. Questo campionato, poi, bisogna che il governo capisca che è portato avanti da sei, massimo otto società. Tutto il resto è fuffa. Allora, anche qui, bisogna uscire allo scoperto. E allora, o lo sport calcistico, per quanto attiene alla Serie A, è veramente da considerarsi un'industria, oltre che uno sport, o no. Perché c'è questa commistione, mai separatasi, per la quale poi si creano le dovute incongruenze. Allora, noi, per esempio, vorremmo che il governo stabilisse un voto ponderale a favore delle sei, barra otto società che sono determinanti per la costituzione di un campionato. Perché altrimenti il campionato non si leggerebbe in piedi. Allora, noi non possiamo continuare le sei, otto società ad accumulare debiti. Noi del Napoli abbiamo chiuso il bilancio con un utile di 83 milioni. Ma con quale fatica? Non potendo investire sull'impiantistica? Non potendo investire sui vivai? Dovendo esistere in un coacervo politico difficile come quello del Sud? Che non certamente è aiutato dai fratelli del Nord. Allora, che cosa fare? Bisogna creare questo voto ponderale. Perché attraverso il voto ponderale, le sei società che avrebbero la maggioranza, creerebbero quei presupposti di maggiore economicità della quale beneficerebbero anche le squadre minori. Che però si devono fidare. Perché altrimenti loro creano sempre l'ostacolo per prendersi una mollica in più e non per prendersi un primo, un secondo, un terzo e un dolce. Come meriterebbero. Poi, inoltre, bisogna guardare alla classifica la classifica è divisa in parte a sinistra e in parte a destra. Nella parte di sinistra ci sono dieci squadre che lottano per entrare in Europa, per vincere uno scudetto. Da gennaio in poi, sulla parte di destra, ci sono delle squadre che lottano per non retrocedere. Voi credete che questo interessi il mondo di chi investe come sono le piattaforme? Noi abbiamo uno stadio reale e uno stadio virtuale. Nello stadio reale non vengono più i tifosi quando già capiscono che quelle partite non portano più da nessuna parte. Dalla parte invece dello stadio virtuale, cioè le piattaforme, le televisioni, se hanno un audience bassissimo, non hanno nessun interesse a investire, allora bisognerebbe determinare quali sono i criteri di ammissibilità per stare nella serie A, che non possono che essere determinati dal bacino di utenza. Perché se il bacino di utenza è minimale, vuol dire che anche da un punto di vista della virtualizzazione di quelle partite non ci sarà alcun interesse. Problemi? Gli stadi? Si è lamentato che noi non abbiamo le infrastrutture, non abbiamo gli stadi. Bene, si è fatta una legge che finalmente adesso accelera queste opportunità. Tutto da vedere, perché poi quando siamo in mano alla politica locale diventa sempre il burocratese e la guida di tutti i problemi. Allora, per investire negli stadi bisogna avere un cleaning delle tifoserie. Perché? Perché in Inghilterra questo problema è stato risolto ormai da tanti anni. Gli oligans sono stati messi fuori. Da noi in Italia abbiamo delle tifoserie condizionanti le quali possono dettare delle leggi limitative sul piano della frequentabilità dello stadio stesso. Quando io posto a molti politici il problema mi è stato detto, e io sono rimasto basito, ma non credo che sia un problema dell'attuale governo, ma dei governi passati. Guardi, noi, i tifosi che vanno allo stadio non li possiamo governare perché rappresentano voti per noi. E questo è gravissimo. Cioè questa è un'ammissione di debolezza totale da parte dello Stato. Perché significa ammettere anche la delinquenza all'interno degli stadi. Tant'è che i tifosi che vanno allo stadio considerano gli stadi terra libera di nessuno perché gli appartiene. Questo non va bene. Assolutamente inconcepibile. Poi bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori. Perché i procuratori sono la vera problematica del sistema calcio per l'indebitamento. Perché sono coloro i quali fanno innalzare e lievitare i costi dei vari giocatori. Allora, come si combattono i procuratori? In due modi. Allungando per legge la possibilità di fare contratti lunghi almeno otto anni. In modo tale che se io ho un contratto per otto anni dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far innalzare il salario concepito precedentemente per quel determinato calciatore e non bisognerebbe dare non bisognerebbe nemmeno limitare la possibilità ai club e questa è la chiave rivolta create la possibilità voi del governo per i club di essere i club stessi procuratori dei calciatori. Allora il problema si risolverebbe da sé e quindi non ci sarebbero problemi anche illegali che si protraono e non ne abbiamo adesso le prove concrete ma sentiamo parlare di problematiche che si svolgono estero su estero no la liceità fiscale deve guidare eticamente il calcio italiano. grazie presidente adesso diamo la parola ma veda lei fa benissimo da cittadino di una città meravigliosa come legge un barocco straordinario quando io ci sono stato per la partita contro di voi ho illustrato ai miei amici con un percorso nella città tutte le bellezze che la compeniano e del resto abbiamo fatto anche dei film a lecce quindi non è una novità per noi però veda noi dobbiamo ragionare in termini anche di equità partecipativa allora se lei mi mette una società o una serie di società che spendono dai 400 ai 500 milioni all'anno con una società che ne spende solo 40 lei mi crea una incapacità competitiva alla pari quindi è chiaro che c'è un divario sul quale bisogna aprire un dibattito per cui se a un certo punto io sono appartenente a una realtà minore per vaccino di utenza e quindi possibilità di fatturabilità devo garantire con patrimoni personali la equità comparativa di competizione perché altrimenti che cosa accade accade che alcune società non intervengono sul mercato perché non c'è solo un problema di vivai c'è anche un problema di intervento e di dire mi presti per cortesia quel calciatore me ne paghi per cortesia il 50% del suo salario e questo non va bene perché le altre società non possono fare le madri delle società minori dovrebbe essere escluso questo concetto allora abbiamo visto che il city group che fa capo al manchester city e che fa capo a un emirato detiene la proprietà di 15 società calcistiche in giro per l'Europa e per il mondo in Italia è stato contestato il buon lotito ha dovuto svendere e rimetterci anche molti soldi per la salernitana dov'è la salernitana? sta retrocedendo allora voglio dire qui è un sistema che al di là del tifo che ognuno di noi può fare per la propria città a prescindere da uno spirito calcistico però qui bisogna anche un momentino levare di mezzo la democraticità del sistema perché o è un sistema di merito economico finanziario di bacino di utenza o altrimenti non ci sarà mai una equa competitività tra le parti prima Setti lamentava di non essere d'accordo con me ma il Verona è una come posso dire già di per sé un'entità economica straordinaria perché perché il Verona da Shakespeare in poi ha una attraverso la sua arena una competenza mondiale internazionale il Venezia non ha bisogno cioè cosa è più famoso nel mondo di Venezia allora poi uno deve saper da imprenditore saper investire per tirar fuori tutte quelle opportunità che il Verona non solo attraverso l'arena ieri sera guardavo il concerto dei Volo che era incredibilmente straordinario trasmesso in tutto il mondo e allora bisogna riuscire a capire come combinare i fattori della produzione affinché produttivamente rendano meno pesante quel gap che se lo esaminiamo soltanto sul piano sportivo potrebbe esistere uno due lei crede che io sia un antesignano provocatore della innovazione no io sono costretto a farvi notare che voi avete purtroppo condizionato il calcio invecchiandolo a dismisura se voi pensate che ancora oggi noi siamo obbligati non a osservare la liberalità che un imprenditore dovrebbe avere ma a dover fare per assegnare i diritti dei bandi dei bandi assurdi dove addirittura determinate persone giuridiche che hanno santi e amici in Parlamento condizionano la redditività del calcio italiano noi nei prossimi cinque anni saremo costretti a scomparire ulteriormente dalla competitività perché perché ci sono delle piattaforme che vivono ad uso e consumo del calcio italiano senza produrre effetti positivi ci si è offerto un 50% sui revenues falso abbiamo fatto i calcoli non esiste produttività assoluta nei prossimi cinque anni quindi siamo stati gabbati un'altra volta voi tutti questi problemi non li conoscete e quindi siamo lì correttamente sintonizzati sui vivai su questo su quest'altro ma vi rendete conto che nella serie B e nella serie C se non intervengono grossi gruppi e fondi stranieri ci sarebbe il disastro più totale eppure se a noi fosse stata data cosa che è stata levata all'Otito e che è stata limitata grazie a un mio intervento fino al 2028 la possibilità per una stessa famiglia di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi cosa che invece dovrebbe essere possibile perché lo fanno per il City Group poter addirittura stare nello stesso campionato a noi c'è stato detto no non è possibile e cosa farà quella società calcistica una volta che la famiglia dell'Aurentis si sarà stancato e ne sarà probabilmente uscita nel 2028 perché prima non se ne parla se non viene modificata la legge probabilmente sarà destinata a rimanere dov'è o a fallire a meno che a meno che ci siano dei gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente allora il problema cari amici qual è in Germania voi lo sapete che uno non può avere più del 49% di proprietà e allora fate una legge per la quale un gruppo straniero non possa avere più del 49% di proprietà e così almeno gli italiani che conoscono il sistema conoscono i problemi conoscono il mercato rimarranno con il 51% in sella a un qualche cosa sulla quale hanno investito permettendo a dei fondi stranieri di essere soltanto un partner finanziario è chiaro il ragionamento io non ce l'ho contro i vivai e non ce l'ho contro Caivano ma io sono andato l'altro giorno guardi io sono uno che si sacrifica pur avendo otto società ed essere impegnato non solo nel calcio ma in tanti altri problemi mi sono messo in macchina ci avevo la scorta ci ho messo un'ora e cinque da Napoli centro a Caivano per andare a vedere un terreno che mi era stato proposto dal ministro Abodi al che ho chiamato il ministro Abodi ho detto Andrea ma tu mi fai perdere tempo ma hai visto qui che casino che c'è ma come puoi pensare che i ragazzini di dieci anni possano raggiungere questo posto da Napoli da Caserta da qualunque altra città non è possibile non è pensabile con tutto adesso voi avete bisogno di riqualificare quel progetto grazie a Meloni che se ne è interessata però il Napoli non può mettere lì un suo centro sportivo dove far venire i ragazzini di dieci anni di undici anni di dodici anni di tredici anni di quattordici anni di quindici anni di quindici anni di quindici anni non si può fare allora voglio dire Napoli poi c'ha mille problemi no? e quindi io dico cerchiamo prima di tutto di fare degli stati generali con il governo del calcio sediamoci in pochi volenterosi di tutti i partiti dell'arco costituzionale partiti al governo partiti all'opposizione tutti quanti tanto siamo tifosi del calcio ci sono 27 milioni di tifosi in Italia che possono essere 27 milioni di elettori di voi stessi sediamoci facciamo una commissione costruttiva di una trentina massimo di persone e cerchiamo di curare con priorità le storture che si sono propagate e realizzate negli ultimi trent'anni questo è quello che bisognerà fare c'è l'avvocato mattia grassani mi scusi perché non ha alzato la mano che si voleva iscrivere a dire due parole sì prima il presidente setti grazie allora no volevo giustamente condividere la senatrice ha offerto una interpretazione del decreto legislativo 36 del 2021 assolutamente centrata cioè è un decreto che è servito con la legge delega 86 del 2019 e gli altri decreti collegati a portare in immersione lavoro nero finto volontariato eccetera eccetera tutela del lavoro sportivo femminile c'è però un problema che il decreto 36 il decreto 37 oggi nella loro attuazione sono in grado di destabilizzare con parti del movimento sportivo allargatissimi perché perché il decreto legislativo 36 ha abolito come ha detto il senatore che adesso non c'è più il vincolo quindi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36 ad ogni stagione sportiva tutti i tesserati non professionisti del settore giovanile di società professionistica o di letantistica dai 14 anni in su cessano di avere il vincolo con il club e il combinato disposto di questo provvedimento del decreto legislativo 36 con il decreto legislativo 37 che è quello degli agenti che ha liberalizzato l'attività dell'agente noi oggi pensiamo che un agente può intrufolarsi negli spogliatoi di ragazzini di 15 anni del Borgo Rosso Football Club e raccogliere la procura di questi ragazzini allora la proposta l'indicazione è ragioniamo sull'introduzione di un vincolo oppure di un contratto di apprendistato che però non sia volontario e paritario perché se l'atleta non lo firma l'atleta non si vincola e quindi ogni anno tutte le società soprattutto quelle immatoriali dei tantisti di settore giornale perdono tutti gli sforzi investiti nei calciatori allora dico io noi abbiamo due decreti che ci hanno restituito società di calcio più povere il 36 e una forza degli agenti ancora maggiore di quella precedente nel 2023 la serie A ha versato agli agenti 220 milioni di euro ma è un dato che non può reggere in un sistema che comunque è indebitato fino a collo per cui intervenire sul 36 e intervenire sul 37 limitando la possibilità per gli agenti di fare proseliti in ambito giovanile e in ambito dilettantistico che è poi un controsenso un agente assiste a un calciatore che è dilettante magari per stipulare un contratto da 10 12 mila euro all'anno ma che bisogna c'è della gente e dall'altro le società non hanno la possibilità di ricavare alcunché rispetto alla formazione dei giovani perché anche quando avessero giovani forti all'interno dell'organico al 30 giugno dell'anno successivo questi giovani evaporano grazie grazie a tutti di che abbiamo concluse così le audizioni grazie a tutti grazie a tutti